Benvenuti sul sito del Consiglio regionale. Grazie al sito noi politici abbiamo la possibilità di comunicare con i cittadini e rendere i palazzi della politica trasparenti, un palazzo di vetro. Nel contempo i cittadini hanno la possibilità di interagire con la politica, con il palazzo, e capire qual è l'organizzazione del palazzo, quali sono gli atti, quello che succede all'interno delle commissioni, come è formata l'organizzazione del Consiglio regionale. Quindi è un nostro dovere e ringraziamo l'organizzazione degli uffici che mettono nelle condizioni la politica e i cittadini di incontrarsi in questo straordinario sito.